Ehi tu, non senti una strana atmosfera? Ce li siamo, sta per arrivare Halloween. E ovviamente noi abbiamo preparato per te qualche piccolo dolcetto. O scherzetto? Preparati a scoprire tre slot a tema Halloween, disponibili nell'offerta dei migliori casino italiani. Ciao amici di internet, io sono il fantasma di James. E voi state guardando il canale di casinoitaliani.it. Stavolta abbiamo selezionato tre slot spaventosamente divertenti per farti entrare sin da subito nel clima di Halloween. Aspettati dunque funzioni geniali, un mucchio di suspense e grafiche all'ultimo grido. Come sempre, se non l'hai già fatto, ti ricordo di iscriverti al nostro canale prima che scenda la notte. Inizio subito con la mia preferita, e sarà perché un mio trisavolo era un vampiro. Brides of Dracula, hold and win del provider iSoftBet. Ci porta a fare un giro nel castello del mitico conte, seguendo la trama originale del romanzo, dello scrittore inglese Bram Stoker. Giocherai con Dracula e le sue tre dame, oltre all'immancabile Van Helsing, che fa la sua apparizione nella veste di simboli wild. Durante il respin e il gioco bonus hold and win, non aumenta solo la suspense, ma anche le vincite, che ci permettono di incassare premi riportati sui vari simboli delle lune piene. Senza dimenticare la funzione casuale, che ci fa scegliere una busta fra le tre associate a dei modificatori strepitosi, come quello che aggiunge in griglia da due a cinque simboli wild stacked. Ragazzi, sono veramente euforico. Da Halloween al giorno dei morti messicano è un attimo. Lo sa bene Play and Go, che ci porta in un altro continente, anche se il livello di brividi rimane comunque invariato. Muerto en Mictlan è una slot che si ispira al famoso Dia de los Muertos. In effetti, ci accorgiamo che anche in Messico hanno un gusto autentico per il macabro. Por favor, silenzio! E che c***o! I protagonisti sono un lui e una lei, opportunamente agghindati e truccati come vuole la tradizione. Le case sono decorate con i tipici fiori in memoria degli defunti. La chitarra suona di sottofondo. Adio de los muertos. Su con la vita, perché anche stavolta possiamo provare a lasciare la festa nell'aldilà e tornare tra i vivi con delle ottime potenziali vincite. Il simbolo scatter della spirale di luce ci introduce al primo di ben quattro livelli di free spin, ciascuno dei quali ci permette di scegliere uno fra quattro simboli wild con diverse funzionalità, ovvero sticky, expanding, walking and exploding, che sarebbero i teschi che esplodono, si allungano, camminano sui rulli, eccetera, insomma. E poi ancora molti piuttori che si attivano in maniera casuale o quelli fissi che crescono man mano che saliamo di livello nei giri gratis, arrivando fino a 30 per... Se vuoi saperne di più sulle slot online, adatte per qualunque occasione, quindi il vostro matrimonio, la cresima, il battesimo, insomma, oppure vuoi tenere d'occhio le promozioni attive quest'ottobre per Halloween, ti consiglio di farti un giro su Casinoitaliani.it. Il link è qua giù, in descrizione. E al primo posto, la slot Mental, che offre un potenziale payout da brividi, una trama provocatoria e un gameplay davvero adrenalinico. Oh, si è rotto. Il gioco è ambientato nei corridoi di un inquietante manicomio, abitato da 5 pazienti alla Hannibal Lecter, purtroppo senza la bottiglia di chiacchi. Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon chianti. Con effetti sonori, diciamo, non particolarmente rilassanti. No Limit City è un provider che ha già trattato delle tematiche, diciamo, un tantino estreme. Quando serve qualcuno con le palle, io sono qui. In ogni caso, chi ha il coraggio di avventurarsi all'interno di questa slot, può provare a portarsi a casa una bella vincita fino a 66.666 volte la puntata. Arrivarci non sarà facile, ma durante la sessione di gioco verrà aiutato da miriadi di funzioni firmate No Limit City, comprese tre diverse e esaltanti modalità di free spin. Immancabile, ovviamente, la funzione per acquistare il bonus round, a partire da 80 volte la puntata base. Mental è già una delle slot di maggiore successo a questo Halloween, ma sarà perfetta anche per ogni occasione in cui avrai voglia di provare un gioco dal tema horror. Quindi, se è abbastanza coraggioso da provare queste tre slot, dici come va lasciando un commento qui in basso, specialmente se avete ottenuto una di quelle vincite da paura. Per oggi è tutto, cari amici di Casino Italiani. Da James e da tutta la squadra ti auguriamo un Halloween... Da James e da tutta la squadra ti auguriamo un Halloween da festeggiare con tanta fortuna. E come sempre ti ricordiamo, gioca responsabilmente. Ciao!